Bella raga, volevo farvi vedere il mio nitro minaggio col kit TCR88 Tanto cameraman avviciniamoci Guardiamo il disco della stage da 2,80 flottante La pinza fa pietà però la cambierò in futuro L'importante intanto è il disco Troppo cosa c'è là? Avvicinati cameraman La marmita fatta su misura per il TCR Da osservare la staffetta per 80cc perché quella per l'88 non andava bene Allora abbiamo adattato quella per l'80 TCR minaggio Inquadriamo bene il TCR per filo e per segno La piastra con quello del liquido se si vede Bobina, guarda la seletta dentro Direi di passare sul sottosella Un po' di adesivi vari Vediamo un bel carburatore da 30 micuni corpo inclinato Derivato dalle motocross Col bel venturi lucidato Adesivi Non guardiamo quello della Giannelli Quelli della Apple Quelli più belli Incliniamoci un po' Cameraman E cosa c'è qua? Il TCR 88 con L'inclina pacco della Pinasco Pacco VL14 E il collettore Moto Force Con diametro interno portato No mi pare che sia già da 30 E dopo dentro il carter Questo bel carter lucido della Straight La campana della Stage Da 479 grammi Con l'over range completa Rapporti primari Malossi 13-44 Secondari Polini 15-42 E l'ammortizzatore Carino 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 Si sentiamo Lo mettiamo in moto Esatto Sperando che vada in moto Come sperando che vada in moto? Ah qua c'è lo staccamassa Leonelli Guardiamo Anche le manopole della Harris Con il rapido domino Oh stage No stage Che cazzo dico Apriamo Quello della Benza Del rubinetto Del rubinetto Dell'acqua L'accelerata L'accelerata Grazie a tutti. Grazie a tutti.